Fu benedetto XVI a nominare Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, e qualche settimana dopo la sua visita in Sicilia a crearlo cardinale. La notizia della morte del Papa Emerito a Riaccese ricordi nel Peralato Cese che fu un nunzi apostolico impegnato in paesi in cui i rapporti diplomatici con la Chiesa erano piuttosto complessi. Romeo fu tessitore di ottime relazioni internazionali. In casa del Cardinale Emerito oggi un via vai di autorità e gente comune, oltre alle tante telefonate con la città del Vaticano. Sua Eccellenza Romeo è rimasto molto colpito dalla morte del Papa e ne parla come di un caro amico con il quale ha condiviso l'intensa esperienza durante la visita nel capoloco siciliano del 2010. Lui stesso mi disse un giorno se c'è da provvedere a Palermo ho pensato che lei deve andare a Palermo. E questo è stato veramente, gli feci capire che io ero avanti negli anni e mi ha detto no 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 vada 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 tranquillamente. E così mi ha mandato a Palermo e anche lì i rapporti sono stati molto forti e quando l'abbiamo invitato a Palermo è stato un giorno veramente bello, non soltanto per la città di Palermo ma per tutta l'isola della Sicilia perché avevamo fatto questo convegno dei giovani e delle famiglie. 280.000 persone sono venute per la sua messa. L'incontro in cattedrale non era più, non era idonea ad accogliere tutti i sacerdoti e religiosi. La Chiesa non ce l'ha fatta e molti sono rimasti fuori. E poi l'incontro a Piazza Politeama con i giovani e ho visto mentre tornavamo all'aeroporto questo gesto spontaneo che lui stesso aveva chiesto di fermarsi là dove era avvenuta la strage di Capaci. Ed è sceso, nessuno sapeva di questa sosta, avevamo chiesto al questore di fermare le macchine ma senza dire niente a nessuno e abbiamo il Santo Padre dal guardrail ha fatto mettere una gerbia di fiori, lo ricordo come oggi erano degli anturium rossi e quando il Santo Padre stava per salire sull'aereo che lo riportava mi ha detto la più bella visita che ho fatto in Italia. Due giorni prima che lui lasciasse il Vaticano hanno presentato le mie lettere di dimissione perché da figlio della Chiesa convivo 75 anni e mi sembrava doveroso presentare le dimissioni. Non lo sapevo che lui si sarebbe dimesso e ho spedito la lettera proprio il giorno che poi dopo alle 12 annunziarono che lui il 28 avrebbe lasciato. E nell'udienza che il Cardinale Ouellet ebbe il giorno 26, due giorni prima di morire, ha ancora un gesto di grande amabilità che mi ha fatto raddrizzare la pelle come si suol dire in un gergo siciliano perché il Santo Padre ha detto no, questa decisione se accettare o non accettare la dimissione e quando renderli effettive la prenderà il mio successore. Grazie 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 Grazie